Mercoledì 29 settembre Giovanni 1, 47, 51 Lettura del Vangelo secondo Giovanni In quel tempo, il Signore Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui Ecco davvero un'israelita in cui non c'è falsità Natanaele gli domandò Come mi conosci? Gli rispose Gesù Prima che Filippo ti chiamasse Io ti ho visto quando eri sotto l'albero di Fichi Gli replicò Natanaele Rabbì, tu sei il figlio di Dio Tu sei il re di Israele Gli rispose Gesù Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di Fichi, tu credi Vedrai cose più grandi di queste Poi gli disse In verità, in verità io vi dico Vedrete il cielo aperto E gli angeli di Dio salire e scendere Sopra il figlio dell'uomo Nel libro della Genesi Si narra che a un certo punto Giacobbe si ritira in un luogo deserto E lì, di notte, fa un sogno Quando arriva in quel luogo Non è proprio un momento idilliaco della sua vita E non dimentichiamo che Giacobbe ha soffiato la primo genitura al fratello Esau I rapporti più stretti per lui sono andati a catafascio E quindi vive come un'assenza, una solitudine In quel sogno, che fa Gli appare una scala E gli angeli salgono e scendono da questa scala Il cielo è aperto Giacobbe può comunicare con Dio Lo trova, lui che non pensava che Dio fosse lì Ecco, per Natanaele forse è un po' la stessa cosa Lui è sotto il fico È in un contesto un po' struso Un po' separato dal mondo Sta cercando Dio, non lo trova A un certo punto arriva Gesù Lo coglie nella sua solitudine Natanaele lo tratta con una certa diffidenza Non vuole credere che ci sia per lui un'opportunità E che quell'opportunità si chiami Gesù Ma Gesù ne ha conosciuto il cuore Allora gli dice Guarda che ti ho visto Tu eri sotto il fico Ti ho visto nella tua solitudine Ti ho visto nella tua ricerca Nella tua preghiera Allora Natanaele cambia completamente puntualmente È come se facessi una piccola professione di fede Ma Gesù lo invita a guardare ancora oltre E gli dice In verità ti dico Vedrete gli angeli Che salgono e scendono sul figlio dell'uomo Quindi questa scala Che mette in comunicazione la terra e il cielo Adesso si chiama Gesù Ecco, credo che anche noi Nelle nostre ricerche Possiamo trovare Dio e la sua presenza E da dove passa la presenza di Dio? Passa da Gesù Se noi incontriamo Lui ogni giorno E ci fidiamo della sua parola Incontriamo anche Dio E siamo messi in comunione con gli altri E col senso della nostra vita Buona ricerca